Grazie a tutti, sono un'attivista di Movimento 5 Stelle e cercherò questa sera di farvi un'introduzione su quella che è la situazione delle ricerche principalmente per la zona della Romagna. Quello che voi vedete in questa immagine è il quadro della situazione al 31 di dicembre di quest'anno, il che vuol dire che è già cambiato, dal 31 di dicembre ad oggi la situazione è già cambiata, nel senso dovete immaginarvi dei riquadrini in più. I riquadrini verdi indicano i permessi di ricerca, i permessi di ricerca sono delle zone, delle aree e territorie che vengono affidate a delle multinazionali per fare ricerche, ricerche tramite l'utilizzo dei vibrosize che avete visto nel video precedente, l'utilizzo di geofoni per percepire le onde del rimando e l'utilizzo di tritolo perché verrà utilizzato anche questo, verranno fatti mucchi nel terreno profondi 10-15 metri con l'introduzione di tritolo che verrà fatto esplodere. Questa è la situazione, solamente nella zona della bassa Romagna i permessi di ricerca sono sei e sono più precisamente Porto Maggiore di proprietà di Enel Longanesi, Casale Cocchia all'interno del comune di Bagnacavallo, sempre di Enel Longanesi, Ponte dei Grilli leggermente più in basso, vicino a San Potito, di proprietà di Alleana Resource, Longastrino in alto e il progetto di ricerca San Marco. Il progetto di ricerca San Marco è nato in questo momento. All'interno di questo permesso di ricerca sono già state fatte due istanze, una per la coltivazione, ossia l'estrazione di metano dal terreno, estrazione di idrocarburi dal terreno. Un'altra istanza è quella relativa alla ribellazione di un pozzo denominato Lossetta 1. Questo posto al momento non esiste ancora, però la via verrà approvata il 10 di questo mese, quindi a brevissimo lo vedremo trivellare e nascere nei nostri territori. Questo appunto è il progetto di ricerca San Marco, potete vedere le dimensioni. Toccherà anche oltre a tutti i comuni della bassa Romagna, anche i comuni di Russi e Ravenna. Le dimensioni sono sempre gigantesche di questi permessi di ricerca. Proprio perché dicevo che la situazione è in continuo evolvere, un nuovo permesso di ricerca che non avete visto nella prima slide è relativo al permesso di ricerca San Patrizio. Questo permesso di ricerca di ricerca San Patrizio, anche questo ha dimensioni gigantesche, 290 km quadrati. All'interno di questo permesso di ricerca, infatti in giallo perché è ancora un istante di permesso, toccherà appunto i comuni di La Vezola, Conselice, Massa Lombarda, Fusignano, Lugo, Sant'Agata. Sono giganteschi. E già all'interno di questo progetto, anche se è ancora un istante di permesso di ricerca, è già prevista la trivellazione di un pozzo che arriverà a 2.500 metri e ipotizzano già la presenza di un secondo per andare un po' più in profondità per avere qualche dato in più. Questa è la situazione dei permessi di ricerca. Passiamo pure anche all'immagine alla 5. Sì, alla 5, esatto. Questo è il primo step della ricerca. Lo step successivo è che, diciamo, uno è proprio identico all'altro, prevede le concessioni di coltivazione, ossia le aree all'interno delle quali trivelleranno vere strade, più o meno e meno, e sono quelle in rosso. Già si vede appunto lungo la costa la zona più vicina a Ravenna, addosso degli Angeli, Porto Corsini-Terra, Ravenna-Terra. Ne sono una sorte tantissime anni in questi ultimi mesi, che sono quello agosto, che qua non si vede, nella zona di Comacchio, andrete a caricare tutta la zona delle lagune, e poi anche un altro ancora più vicino a Ravenna, che si chiama, adesso in Augusta, non ne sono sicura. Nella zona invece della Bassa Romagna c'è la concessione di coltivazione San Potito. Ovviamente ne manca anche un'altra, che è quella di Bagna Cavallo. Queste due concessioni, rispettivamente di Longanesi e di Padana Energia, si sono unite per lo sfruttamento di un unico giacimento, il giacimento Longanesi. Il giacimento Longanesi, già noto, era stato abbandonato per una decina d'anni, adesso è diventato la nuova meta, e verrà sfruttato tramite l'utilizzo di due vecchi pozzi, Longanesi 1 e Abadesi 1, e la creazione tra i nuovi pozzi, che dicono che saranno tra i comuni di Lugo e Bagna Cavallo, ma esattamente la collocazione ancora non è nota. Si diceva esaurita. Comunque le concessioni di coltivazione ogni settimana, ogni mese, ne nascono nuove, quindi sappiamo che ne andremo più. Quello che vedete invece in Fucsia sono gli stoccaggi. Sempre anche la Bassa Romagna, perché noi siamo molto fortunati, ne abbiamo già due. Uno alfonsine stoccaggio e l'altro il San Potito e Cotignola stoccaggio. L'alfonsine stoccaggio è già concluso, però al momento non è ancora in funzione e ha già 11 pozzi al suo interno adatti allo stoccaggio, più uno di monitoraggio. Mentre lo stoccaggio di San Potito e Cotignola è una cosa leggermente diversa, nel senso che ha la sua centrale a San Potito, con i suoi pozzi di stoccaggio, e due cluster, ossia due riunioni di pozzi, un punto in cui ci sono diversi pozzi, che uno è il cluster B di Cotignola, l'altro è il cluster C. In totale questa centrale di stoccaggio ha 19 pozzi per stoccare. Questa è la situazione ad oggi, ma già la prossima settimana probabilmente ci sarebbero già da fare un po' di correzioni anche a questa mappa. È tutto, grazie. Non mi riprendo quello che ha già detto INSA, avete già visto la situazione a terra. Vediamo ad esempio i posti attivi e non eroganti che ci sono appunto a Ravenna, nel territorio di Ravenna. Vedete che abbiamo queste sette concessioni, le vendiamo al bulo, queste vi faccio vedere le zone dove sono collegate, vedete che ci sono ancora dei posti attivi, qui siamo addosso Angeli, un posto attivo a Porto Corsini Terra, questa è la zona, Ravenna Terra, qui sono posti che non producono più dagli anni, dagli primi anni 90, però esistono ancora, San Potito, questa non è erogante, Alfonsina, concessione non produttiva, Santerno, nella zona di Imola, posto produttivo, eccetera, e Mesocoglio non erogante. Naturalmente ripeto anche in quanto adentuizia, ovvero che la situazione è al fine 2012, ma potrebbe essere anche che sia stata modificata. Questo è quello che si riferisce sul sito del Ministero dello sviluppo economico. Quindi abbiamo a terra 34 posti produttivi e di cui 14 eroganti. A mare, cominciamo a vedere qualcosa di più complicato, ovvero io mi sono riferita alla zona di Costa Tospicente Ravenna, diciamo all'incirca un 40 km circostante, non sono andata più oltre. Analizzando tutti i riquadri che vedete, sono concessioni di coltivazione, quindi lì viene estratto, idrotaturo, prevalentemente metano, basolino, e abbiamo 18 concessioni di coltivazione e un permesso di ricerca, che è quello in verde che vedete in atto. Cominciamo a scorrere rapidamente, abbiamo Porto Corsini Mare, vedete dove è collocato, e abbiamo 30 posti produttivi di cui 5 eroganti. Clascia Cervia Mare, 9 eroganti di cui 16 posti produttivi, 15 posti produttivi di cui 7 eroganti a Cervia. Questa zona ha questa sigla, vedete dove è collocata, diciamo davanti a Vido di Staglio e Vido di Clascia, si estende oltre Marina di Ravenna, abbiamo 7 piattaforme, 2 centrali di raccolta, 58 posti produttivi di cui 25 eroganti. Qui 42 posti produttivi di cui 7 eroganti, sempre di fronte a Ravenna, vedete, è di doppio angola, qui di seta. Qui un'altra concessione di cui 9 eroganti di 27 posti produttivi, 4 piattaforme, 6 posti produttivi sempre di qui di fronte a Cervia. Qui altri due posti produttivi, qui altri due, qui 8 di 10 produttivi davanti a Casal Borsetti, lo vedete anche così, le proporzioni vi possono dare l'idea che non siamo molto distanti dalla posta. Arriviamo a quest'altra concessione con 4 piattaforme in Marina, siamo di fronte a Marina di Ravenna e la concessione arriva proprio a rammire la posta. Ovviamente questi poi sono perimetri che vengono dati, ma chiaramente i posti non è che siano e oltre a Cimenti siano configurati esattamente come vedete, ma possono essere anche più grandi evidentemente. 26 posti produttivi di cui 6 eroganti. Questa è una famosa e famigerata Angela Angelina che vedete proprio davanti al Bidodriano, alla Coce del Berrano, parco regionale del Detto del Po, 8 posti eroganti, 18 produttivi. È notizia di poco da fonti non ufficiali che verranno aperti altri 10 posti, quindi supponiamo che possono riattivare quelli attualmente non produttivi. Un'ottima notizia. altra, un'altra concessione dall'Ostia a Serbia, altra concessione vedete sempre di fronte a Marina di Ravenna, 5 posti eroganti di questi, altri stessa situazione. Questa è un'altra concessione non produttiva, qui abbiamo un permesso di ricerca in mare di cui ci parlerà molto bene Maria Rita. Per un totale, giusto per farvi un'idea, sempre ammettendo che la situazione non è aggiornata da qualche mese, abbiamo 40 piattaforme, 281 posti di cui 102 prelevano idrocarburi dal sottosuolo. Questa è la situazione, non penso che di averla già illustrata abbastanza rapidamente e in maniera abbastanza sconvolgente, almeno come è stata per me, da riferire tutti questi dati, quando andiamo a parlare di subsidenza, erosione della costa, rifacimenti, scogliere, eccetera, ci chiediamo se possiamo andare avanti così. E adesso, grazie a tutti.